È un momento di effervescenza per l'agroalimentare calabrese, noi siamo reduci da Nuga dove abbiamo avuto anche in questo caso un grande successo. I numeri ci dicono che l'exporto dell'agroalimentare è ulteriormente in crescita nel 2023, dopo il 30% in più del 2022, in più 20% nel primo semestre. E quindi la valorizzazione dei prodotti, anche di nicchia, di estrema nicchia, come quelli che sono riconoscibili, sono un territorio comunale, che hanno una denominazione di origine comunale, può essere un altro strumento per ampliare le consapevolezze sui territori e per fare in modo che si crei ulteriori economie. Il Consiglio regionale, con il collega Giannetta I firmatario e Dio II firmatario, ha approvato una legge per l'istituzione del registro regionale delle DECO, dei prodotti con denominazione di origine comunale, e quindi credo che adesso questo percorso possa brillantemente cominciare. Abbiamo istituito il registro proprio per averli tutti iscritti, credo che siano già tanti, ma saranno sempre di più, perché questo stimolo servirà naturalmente a tanti produttori per segnalare ai propri comuni e ai propri territori che questi prodotti sono prodotti di qualità, ma soprattutto di nicchia, con la nicchia si ha la qualità. Sì, sarà un'ottima carmessa, un'ottima vetrina per i prodotti tipici della nostra stupenda e meravigliosa terra. Noi puntiamo tantissimo, sin dal giorno del nostro insediamento, su quelle che sono le tipicità che corrispondono e contraddistinguono Fuscaldo, e la stessa cosa deve valere per tutti quanti gli altri comuni della Regione Calabria, perché abbiamo delle unicità e delle specificità che, esaltandole, perché, esaltando la diversità, riusciremo a fare in modo che quelli che sono dei tratti distintivi della nostra Regione possano emergere, per fare in modo che i nostri prodotti possano arrivare ai livelli che gli competono. Sì, la carmessa si svolgerà nel centro storico di Fuscaldo, ci saranno diversi espositori, stendisti, provenienti da diversi comuni della Calabria, in rappresentanza di tutte le province della nostra Regione, e verranno esposti quelli che sono i prodotti che già hanno ottenuto delle certificazioni, di denominazione comunale d'origine, dalle apposite commissioni, che sono già state istituite in diversi comuni della Calabria. Altri hanno iniziato l'iter, hanno avviato l'iter per arrivare alla Commissione d'Eco, questa è la strada da tracciare, perché, come dicevo prima, tutelare le proprie specificità, le proprie particolarità, serve in una visione di insieme a fare in modo che tutta la Regione Calabria possa vedere accresciuta quella che è la prima immagine. Per quanto riguarda Fuscaldo ci saranno chiaramente le alici, noi abbiamo diversi piatti tipici a base di alici, che hanno già ottenuto la certificazione d'Eco, ma c'è anche per esempio il pane di miglio, e per quanto riguarda il nostro comune ci sono anche i portali, quindi perché anche opere dell'artigianato possono ottenere la marchiatura d'Eco. Da altri comuni ci saranno le melenzane, ci sarà l'origano, ci sarà il miele, quindi ci saranno tantissimi prodotti, perché la nostra è una regione molto variegata da questo punto di vista e anche dal punto di vista enogastronomico, non ha niente da invidiare a nessuno.